ciao e buon buongiorno amici della rubrica dei bet il vostro tipster michelangelo inizia ad analizzare quello che sono i bet mondiali allora entriamo subito nel nel merito domenica praticamente si inizia si inizia con catar ecuador in questo caso è la prima partita quella di quella inaugurale dove gioca la squadra che ospita i mondiali siccome questi mondiali non sono qualcosa di calcistico e sono mondiali di base politica mondiali che non dovrebbero neanche essere giocati non bisognerebbe neanche parlare di calcio in catar ma detto questo andiamo avanti sul sulla quota io vi dico che se vi volete giocare una multipla partendo da questa partita si inizia col 1x se invece vi volete giocare la secca mettete l'uno i padroni di casa che sicuramente inizieranno con la vittoria lunedì lunedì mi sono giocato usa galles 1x secondo me gli stati uniti in questo mondiale post potrebbero potrebbero dire la loro comunque usa galles è una partita alquanto equilibrata dove si potrebbe anche giocare entrambe le squadre segnano danimarca tunisia mi gioco l'uno fisso la danimarca dovrebbe essere superiore ai tunisini francia australia uno fisso in questo caso la francia è la favorita del del mondiale perdonatemi sia danimarca che francia giocano di martedì invece il lunedì gioca l'inghilterra contro l'iran dove anche qui mi gioco l'uno fisso stranamente quotato a 1 e 33 che potrebbe sembrare una quota bassa ma se confrontiamo lo status inglese con quello iraniano a livello calcistico e la quota interessante in questo caso potremmo spingerla anche con una vittoria con più di un gol per l'inghilterra poi abbiamo sempre lunedì senegal paesi bassi ovvero olanda senegal è una partita che secondo me potrebbe nascondere delle piccole insidie perché le squadre africane sono squadre toste sono squadre che abituate a giocare al caldo mentre l'olanda si ritrova in situazioni climatiche per lei non normali in questo periodo quindi potremmo giocarci o primo tempo 1 2 oppure oppure potremmo identificare la giocata in due gol nella partita ma dare pronostici secondo me qua potrebbe scapparci addirittura la prima sorpresa dei mondiali infine chiudo con messico polonia con l'uno x anche se la maggior parte di voi sicuramente sarebbero orientati per il contrario ovvero x2 polonia dando la polonia per vincente ma io mi gioco l'uno x sempre per il discorso clima perché comunque giochiamo in catar giochiamo in un paese caldo molti di noi arrivano le squadre europee arrivano invece da freddo polonia olanda eccetera e non sarà comunque facile acclimatarsi nel giro di una settimana mentre scuole squadre africane nonché quelle sudamericane chiaramente considerando che poi ci sono comunque giocatori che giocano in europa questo è chiaro però se all'interno del loro standard sono comunque giocatori che il caldo dovrebbero sopportare quindi avere meno problemi climatici quindi questi primi sette pronostici sono per la partita inaugurale per il lunedì e per il martedì poi ci sentiremo in settimana per vedere un attimino come siamo andati e per proiettarci a quelle successive fino alla fine scommettiamo che le prendiamo